Sono i guanti antitaglio e l'agenda professionale con il codice penale, è la nostra controfesta della polizia. Stiamo vicini alle esigenze concrete di servizio. Grazie a te. Il guanti antitaglio e l'agenda professionale di servizio con il codice penale, è la nostra controfesta della polizia. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.